Ciao ragazzi, benvenuti alla video recensione della Love Powder, questa tavola della gamma femminile della linea Battalion. Tutte le tavole Battalion, questa inclusa, hanno il profilo Triple Base, questo cucchiaio in punta e coda. Andatevi a trovare il video sul nostro canale, è linkato anche qua sotto, dove spieghiamo nello specifico come funziona questo tipo di profilo. La Love Powder è un All Mountain Freeride, dal prezzo decisamente accessibile, è un All Mountain Freeride di gamma media. Costruita comunque con ottimi materiali, un core molto leggero, delle stripes in carbonio per aumentare il pop, stabilizzare la struttura. E non fatevi entrare in inganno dal tipo di shave, dal tipo di forma, è una tavola versatilissima anche fuori dall'adene fresca. Sicuramente il suo focus principale è sollevare nuvole di polvere ad ogni curva, ma in pista se la cava benissimo, proprio grazie alle caratteristiche che dicevamo prima, ovvero un'ottima stabilità, un'ottima tenuta e una grande precisione del tipo di sciancratura con cui è fatta. La soletta è molto veloce, è una soletta estremamente scorrevole, facile da riparare, facile da fare manutenzione, quindi pochi problemi. Una tavolina molto completa per chi si sta approcciando un pochino al mondo del fuoripista, non vuole una tavola unicamente per il fuoripista e non vuole spendere un'esagerazione. Se la Love Powder ti piace, se la Love Powder ti interessa, insomma incontra un pochino il tuo gusto in questo momento, puoi dare un'occhiata sulla pagina prodotto del sito, dove c'è una recensione scritta un pochino più articolata. Per qualsiasi domanda qua sotto o sui nostri canali social e in questa playlist trovate tutte le altre tavole battalion descritte e recensite, e quindi potete farvi tranquillamente una carallata. A presto! Boom!